Valorizzare il Parco Pertini ad Arezzo, questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale, un percorso di riqualificazione che passa anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del bar all'interno dell'area verde, da tempo chiuso dopo che l'ultima gestione aveva riconsegnato le chiavi prima della scadenza. Si parte dal bar perché è il presidio più significativo che c'è in tutto questo bellissimo Parco Pertini, che è un polmone verde importantissimo per la città, primavera, estate è frequentatissimo, e non avere un punto di ristoro è veramente un diminuzio. La possibilità che diamo è quella di ampliarsi per far sì che possa diventare anche un ristorante, quindi per poterci contare anche come punto di presidio per l'intera zona, oltre che riqualificare quello che ormai è, come vedete, abbastanza fatiscente. La struttura dovrà dunque essere ristrutturata, i lavori saranno a cure e spese del soggetto che si aggiudicherà la gestione, la durata della concessione sarà di 15 anni. In breve uscirà il bando, la vera novità è il fatto che chi comunque vince potrà fare un ampliamento fino a 150 metri quadri e potrà andare a scomputo fino a 250 mila euro dai canoni del comune, quindi di fatto l'imprenditore potrà comunque creare una bella attività, soprattutto in bar e ristorazione, perché noi crediamo molto su quello, visto che in passato purtroppo il gestore ha dimostrato più volte di non riuscire comunque a sostenere questa attività solo con il bar, quindi avere un ristorante in pieno centro di città, comunque con un parco del genere, secondo noi è un'ottima opportunità, quindi ci aspettiamo molti imprenditori che partecipino. Tempissiche quali saranno adesso? A breve verrà portata in consiglio comunale e subito dopo partirà il bando, quindi penso pochi mesi. Noi vogliamo che questo parco continui ad essere frequentato da famiglie, abbiamo visto anche stamattina stando qua questa mezz'ora quante passeggini transitano in questo parco, famiglie che si fermano e vorremmo dare continuità anche nei periodi dove le giornate sono più corte e mettere questo punto di presidio perché le mamme e le nonne possano venire con i bambini anche nei mesi più freddi e meno frequentati fino a oggi.